Mi sono girata per vedere se le tende erano alzate e ho trovato la sorpresa, ho trovato il vetro spaccato. Lì per lì non ci volevo neanche credere perché poi ci batte la luce e quindi non si vede molto bene. E invece poi ho guardato bene, era esattamente il vetro spaccato. Ancora non è chiaro se si tratta di un tentativo di furto oppure di un atto vandalico, come è stata indubbiamente una amara scoperta quella fatta dalla proprietaria di questo negozio di borse. Ci troviamo nella centralissima via Guido Monaco, nel cuore del centro aretino. Penso semplicemente che sia un atto totalmente assurdo da incivili, da maleducati e da irrispettosi. I malviventi nella notte si sono accaniti contro una vetrina laterale del negozio con un sasso o qualcos'altro di appuntito. I segni del ride sono ancora ben visibili sulla vetrata antisfondamento, che quindi ha eretto i colpi ma sulla quale si è aperta una grossa ragnatela. È un bel danno, però più che il danno dispiace. Dispiace perché io personalmente ci metto anima e cuore e ritrovarsi certe cose non fa mai piacere. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Non si tratta dell'unico tentato furto o atto vandalico che si è consumato nella zona, sempre nel weekend è stato infatti incendiato un cestino a pochi passi dal locale preso di mira. Sarebbero state anche forzate altre porte senza successo. Alcune settimane fa invece un colpo nella stessa via era stato messo a segno. I ladri nella notte erano riusciti ad entrare in un negozio poco distante, fare razzia di contanti e poi darsi alla fuga dopo aver richiuso tutto, porta e sarà cinesca. Era già stata presa di mira per i furti, infatti ero già pronta. Però un conto è pensarlo, un conto è ritrovarsi nel momento con questo vetro.